Attenzione, Bar del Porto, Caffetteria del Porto, Zogno, 19 febbraio 2021. Tempo mojo, temperatura di 7-8 gradi. E se il buon Luca oggi ha conquistato la patente, esame di teoria dopo 29 anni di vita. E per questo magnifico entusiasmo farà questo gesto. Brembo, lanciamo la sfida a Mr. Ok. E dopo il Tevere ci sarà il Brembo, guardate. 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 Attenzione, Gesù Cristo si butta. Grande! Ottimo Luca! E adesso parte la festa. Buona giornata dalla Val Brembana. Tutto bene.